Sono Walter Grillotti di Balilla, nato a Genova il 10-11-28. Sono nato in un ambiente antifascista. Mio nonno Daniele nel 1922 fu colpito dal squadraccio fascista, era vice sindaco di Montignoso in provincia di Massacarrara e a seguito delle percoste, dopo sette mesi di sofferenze, morì. Mio padre con la mamma e sei fratelli e sorelle si trasferirono a Genova nella Val Polcevera. Furono aiutati da vecchi montignosini che la avviarono sola in un immenso dolore a cercare di aiutare i suoi figli. Mio padre, già antifascista, era un ardito del popolo. Si iscrisse nel 1934 al movimento comunista. Quindi sono praticamente cresciuto in un ambiente politicamente ben determinato. Mio padre ricordo che durante la guerra spagnola mi aiutava a sentire le notizie delle radio francesi che erano un po' più veritiere di quella italiana. Mi faceva ascoltare la radio clandestina sull'andamento della guerra di Spagna. Mio padre poi, allo scoppio della guerra, divenne uno dei comandanti delle GAP di Genova. partecipò sicuramente a delle azioni chiamiamole sovversive per i fascisti, fra cui anche l'uccisione del generale Parodi, il comandante della brigata nera, che fu ucciso a Savignone. Valpolcevra, Genova, Boltaneto, Rivarolo, Ponte Decimo. Nel 1944 mio padre fu catturato dalla squadra politica del commissario Giusto Veneziani e dopo dieci giorni di torture, condannato a morte e assieme a cinque altri comunisti. furono fucilati al Forte San Giuliano in corso a Italia, processati la notte del 29 luglio 1944 e direttamente trasferiti al Forte San Giuliano i vi fucilati. La mia conoscenza dei fatti circa la fucilazione di mio padre veni a saperla alcuni giorni dopo leggendo anche dal giornale il secolo e ne pubblicava una tra filetto. La mia mamma ha fatto molti sacrifici, tanto è vero che cercai anche di riprendere la scuola al periodo successivo, a settembre, ma distribuendo l'unità clandestina fu scoperto e dovetti fuggire. Andai in montagna attraverso Busalla, Savignone, la Val Brovenna, Monte Antola e arrivai a Carrega che era allora il comando, c'era il comando della sesta zona operativa e le missioni inglese e americana a violande con i lanci che avevano effettuato nel periodo. Fui accompagnato da un partigiano turno che mi aiutò in tutto a questa attraversata e dormimmo anche a Nenno. Ma piacevate di giorno o di notte per spostarvi? Anche di giorno perché un ragazzo con una fascina sulle spalle sembravamo dei contadini quindi non avevamo dato modo di pensare troppo per il sottile. Però eravate armati? Eravate armati o disarmati? E aveva la pistola solo turno io no. E quindi sei arrivato su e ti ero dato il nome di battaglia? Il nome di battaglia era Balilla il nome di mio padre perché mio padre si chiamava Balilla che non aveva nulla a che fare perché era nato nel 1902. Il periodo che trascorsi a Carrega va dalla fine di dicembre del 44 sino a metà febbraio del 45. In quell'epoca fecero fecero due rastrellamenti uno di Mongoli durante una nevicata ed io fui accolto a Magioncalda che è una frazione sotto al monte Maantola fui accolto e aiutato dalla moglie di Marzo Canepa Canepa GB grande comunista e giornalista oltre ad aver fatto anche il confino a Magioncalda fu trasferito fu trasferito assieme alla moglie di Marzo e sembravamo madre e figlio non si ebbe alcun contraccolpo circa la nostra presenza tanto è vero che i i mongoli del rastrellamento venivano a farti dare delle uova o qualcosa da mangiare infatti mi ricordo che gli gli dette la la moglie di Marzo gli dette due uova e un po' di riso fumo accolti dalla dai partigiani di fascia al di là del crinale dopo la la fine del rastrellamento e lì a fascia ebbe luogo la nascita di un piccolo distaccamento cosiddetto ospedale che trovava riparo nella canonica di fascia e ci fecero anche un un ospedale che serviva per i primi soccorsi io facevo la staffetta da fra Carrega e Rovegno e Rovegno in Val Trebbia tutti i giorni come una lepre a portare ordini ebbi ebbi a conoscere in quelle occasioni Miro che era il comandante Uckumar Uckumar era lo zio del famoso tributarista di Genova poi conobbi anche un altro comandante partigiano che poi nel dopoguerra fu uno dei primi eletti l'onorevole Barontini alla costituente conobbi anche il capo di stato maggiore della sesta zona operativa che era Lazagna Lazagna il papà del famoso brigatista rosso era allora scappato con me a seguito di un rastellamento a Carrega questo prima del rastellamento dei mongoli che fu una vittoria dei partigiani che presero 20-33 prigionieri tedeschi l'errore dei tedeschi fu quella di scendere giù dal crinale della frazione Conio vicino a Carrega nella radura scoperta furono sotto il fuoco incrociato dei partigiani io invece appartenevo ad un gruppo che si era disperso nella opposta direzione verso la Cadi Romano e Capane di Carrega dai quali ci sparavano ci sparavano i tedeschi prima di essere presi dal fuoco incrociato fu una netta vittoria che dette parecchio pensiero e fecero poi questa questo rastellamento ma che non ebbe alcuna conseguenza per i partigiani perché ci disperdemmo io ero come dicevo a Magion Calda assieme alla moglie di Marzo che mi faceva da madre poi andai a fascia come ho già detto e da lì ci stetti fino alla liberazione ebbi l'incontro di Battista comandante della brigata Balilla che portava il nome di mio padre e il giorno di Pasqua del 45 mi pare il primo o il due di aprile del 45 ma senti che mansioni avevi lì alla fascia staffetta anche lì staffetta sempre dove andavi cosa facevi andavo da rovegno attraverso loco due ponti casse ingheno fascia capanna di carrega carrega erano continuamente il mio viaggio giornaliero quanti eravate a fare la staffetta eravamo in due eravamo in due però al distaccamento di fascia eravamo in una quindicina fra l'altro c'era anche un mio zio il fratello di mia madre che era stato ferito a montoggio in uno scontro contro i tedeschi in quanto mio zio era nella brigata balilla la brigata di mio padre era acquartierata nella zona di san clemente sulle alture di montoggio fu la brigata volante una delle due brigate volanti della sesta zona la severino e la balilla la rapidità e l'ancoraggio minimo al territorio oggi erano qui domani la dormivano anche alla viaggio quanti erano più o meno per ogni brigata e al massimo una ottantina di persone due distaccamenti da 40 si 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 a squadre gente con un fegato che meravigliose fedeli fino all'ultimo premetto che dopo la guerra mio padre fu insegnito della medaglia d'argento al valore militare con i gradi di capitano fumo aiutati io e mia mamma dai nostri compagni e io poi ripresi a studiare cercando di fare in modo che mio padre fosse soddisfatto quando mi scrisse tu Walter cresci buono e consola la mamma di questo grande dolore ok questa è la lettera come dire incomiato di suo padre si leggo la lettera di mio papà che scrisse poche ore prima di essere fucilato carissimi negli ultimi momenti della mia vita il pensiero è tutto per voi muoio contento non dubitate che venga minimamente meno a quanto ho creduto vi dico solo che vi ho amato tanto tu Giulia cara cerca di essere la buona mamma come sei sempre stata per me la buona sposa tu Walter cresci buono e ordinato e consola la mamma di questo dolore vorrei dilungarmi ma a che servirebbe forse a farvi piangere Giulia se tu ti trovassi in difficoltà non esitare a vendere tutto quello che potrebbe aiutarti anche la moto o qualche altro oggetto che tengo caro perdono a tutti se ho ricevuto del male e vorrei essere perdonato saluto a tutti gli amici e conoscenti baci i nipoti miei e tuoi salute i fratelli e sorelle mie e tue bacia Walter e tienilo con te cerca di non avvelirti tanto poiché il bambino ha bisogno ancora di aiuto credo non ti abatterai tanto e avrai tanta forza da superare questa prova suprema sappi che ti ho amata tanto 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 e muoio contento con la visione tua e di Walter davanti baci 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 addio balilla post scritto accludo lire 137 una cosa che mi interesserebbe sentire da lei è il giorno della liberazione e la liberazione purtroppo non l'ho vissuta come sarebbe stato mio desiderio perché eravamo in marcia da fascia verso torriglia il giorno 26 di aprile quindi quando giunsi a casa tutto era già tranquillo era tutto passato non posso certo gloriarmene ma non potevamo volare siamo venuti in giù una specie di carovana con muli da fascia a torriglia da torriglia poi ai primi alla fine di aprile scendemmo in con camion a genova da genova poi fumo trasferiti sempre su camion a casa in Val Polchievera alla località dove abitavo ai barabini di Teglia che è sulla sponda destra del Polchievera fra Rivarolo e Boltaneto sono stato coccolato dai comandanti forse consapevoli che mio padre era stato ucciso non avrebbero certo voluto che io mi esponessi a dei pericoli e devo dire la verità che con me adottarono tutte le misure per evitarmi fatiche e pericoli fu quasi una grande solidarietà che ebbero nei miei confronti fame non posso dire di averne patita andavo alla sera a prendere il latte che ci davano che ci passavano ai contadini e una ciotola di latte l'ho sempre avuta mattina e sera e al giorno anche qualcosa di più solido devo dire la verità ebbero per me dei riguardi enormi come dico consapevoli che la raccomandazione di mio padre fu seguita veramente e a 800 metri di livello nell'appennino Ligure si sentiva si sentiva si avvertiva ma muovendoci avevamo modo di poterci scaldare camminare sulla neve era ormai un nostro esercizio quotidiano e la neve fra l'altro in quell'anno ne venne giù parecchia e fu un inverno abbastanza freddo come dico avevo anche l'aiuto della solidarietà dei miei comandanti Comunque l'unica cosa che ti volevo chiedere che secondo me era interessante per parlare della tua esperienza era ricordare com'era la solidarietà di quelli che vivevano intorno a voi sulle colline sui appennini c'era solidarietà come si comportavano? Specialmente i contadini ci aiutarono molto e misero arrepentaglio anche la loro esistenza due rastrellamenti cui ho partecipato ce ne fu uno però ma non ero ancora in montagna nell'agosto del 44 quando la divisione Monterosa passò praticamente armi e bagagli nei partigiani si sciolse la Monterosa dette molti partigiani alla sesta zona operativa furono comandanti nostri molto duri all'occorrenza ma molto saggi saggi al punto come dico che ebbero per me una grande considerazione fui aiutato in maniera meravigliosa meravigliosa vuoi ricordare i nomi dei comandanti Barontini quello che divenne onorevole a Spezia era Spezzino poi c'era Latagna un'occorrenza bisagno ukmar miro vero vero era il comandante dei servizi di informazione fu una persona meravigliosa vero era di cornigliano abbastanza giovane potrebbe ancora essere forse vivo anche se molto anziano ormai poi altri Mattei Ateo Mattei che riposa anche lui nel Sacrario di Rivarolo Cabona insieme agli altri partigiani dove è anche la salma di mio padre dei Grazie a tutti.